Ciao a tutti, volevo fare questo video per ringraziare Dottor Torino per aver superato alla grande, al primo tentativo, le prove a psicoattitunale di un concorso pubblico e consiglio vivamente il suo corso. Grazie ai suoi consigli e alla sua preparazione ho superato alla grande con tranquillità queste prove. Consiglio quindi vivamente per chi deve affrontare questo tipo di prove e farsi selezionare da un periodo selezionatore questo corso. Sei un aspirante di un concorso in forza dell'ordine o forze armate? Passi tante ore a girovagare sui forum e nei vari gruppi dei concorsi cercando in vano di ricevere del valore? Ti è servito a qualcosa? Ok, adesso è arrivato il momento di capire come prepararsi seriamente per vincere il concorso con autorità e sicurezza e indossare la divisa che hai sempre avuto l'obiettivo di indossare. Abbiamo creato un percorso che si chiama Mental Program che probabilmente avrai già sentito e che probabilmente ti farà girare anche le scatole perché andrà a performare su tutti i tuoi paradigmi e credenze, ma ti insegnerà come vincere il concorso con una metodologia step by step. Quindi clicca sul link e ci vediamo dall'altro lato. Ciao!